La scuola Kennedy di nuovo in prima fila in quello che è il progetto finale di un piano di lavoro che parte già a settembre con i piccoli studenti, che abbina lo sport a che cos'altro? A tantissime iniziative, tutte quelle che riguardano lo star bene con se stessi ed altri, per esempio un laboratorio sul bullismo, anzi la prevenzione al bullismo, differenziato, esteso dai bambini, dalla prima classe fino alla quinta classe. Poi altre iniziative come didattica specializzata, per esempio la robotica educativa che va a imparare i bambini attraverso elementi digitali un po' nuovi e differenti, soprattutto i bambini con difficoltà nell'apprendimento, quindi DSA e BES. E poi altre iniziative legate a cose che sono uscite durante l'anno, per esempio il progetto sport a scuola che ci è stato dato a dicembre, che lavora molto sul fair play, che è una parola un po' difficile ma che dovrebbe significare lavorare secondo le regole nel massimo rispetto a degli altri. Tutto questo culminerà in una giornata di sport e non solo il 17 di maggio. Sì, il 17 maggio siamo fuori dalla scuola, nella via San Francesco, poi siamo all'interno della scuola, nella palestra e nel CTI, che è il centro territoriale per l'inclusione, poi usciamo nei nostri spazi sportivi esterni. In un orario scolastico, quindi dalle 9 alle 12 e 30, la mattina abbiamo la scuola dell'infanzia, Domodossola, Trontano e Cosasca, le scuole del Rosmini e le nostre prime e seconde. Il pomeriggio abbiamo tutta la scuola media statale, poi Rosmini ancora e poi abbiamo terza, quarta e quinta, sempre plessi di Trontano e Cosasca. Più i grandi del liceo, del nostro Rosmini, che sono una parte integrante, li abbiamo formati durante l'anno, collaborando con la preside, con l'insegnante Carlotta di Educazione e Fisica. Involgerà quante persone questa manifestazione? Allora, come utenza infantile siamo intorno ai 650, poi quello che però ci piace di più è che le 16 e 30 chiamiamo in gioco le mamme e papà. Io sono arbitro di una, penso, accesissima partita di pallacampo, mamme contro papà con medaglie finali.